Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Giocaway 7000, adesso è finita la partita di Napoli-Juve, 2-1 per il Napoli, grande partita e grande vittoria per il Napoli, sia il primo che il secondo tempo è stato emozionante. I giocatori che mi sono piaciuti di più sono stati in primis Lorenzo Insigne, ci sono state delle volte in cui è tornato indietro a fare il difensore, a recuperare palla, altre volte a partecipare alle azioni offensive, a ripartire stesso lui facendo molti dribbling, anche facendo molti buoni passaggi. E' assinato anche il secondo tempo del 2-1, con una bella coordinazione, un grande insignio. Un altro giocatore che mi è piaciuto è stato Diego Demme, che oltre all'essersi liberato un buon regista di squadra, si è liberato anche un giocatore che sta a recuperare anche molti palloni a centrocampo. E oggi si è istituito a fare l'Allan, che non è stato convocato, per via che è nato il suo terzo figlio, curi Allan. Poi mi è piaciuta anche la prestazione di Manolas, ma soprattutto io sai che dai sai, soprattutto non me la sarei aspettato che facesse questa grande partita. Solo qualche distrazione ha fatto, però del resto mi è piaciuto come ha difeso e recuperato palla. Manolas è la stessa cosa, Manolas regolava palloni con molta grinta, regolava la posizione velocemente, grande Manolas. Zilic che è anche una buona partita, solo Fabian Ruiz non mi ha convinto tanto. Ripartiva bene sì, però ogni tanto sbagliava anche i passaggi, ma soprattutto spregava palloni, dove il Napoli aveva l'opportunità per segnare soprattutto nel primo tempo. Diciamo anche Milik non ha fatto una partita sufficiente, perché si è fatto vedere davanti, non per le occasioni da gol, mettiamolo chiaro, evidenziandolo, ma solo facendo passaggi per far ripartire la squadra. Di Lorenzo la stessa cosa, partita sufficiente, si è comportato anche da difensore centrale, nonostante non sia il suo ruolo. Meret anche ha fatto grandi parate, grande Meret e buone uscite. Poi Zilic che nel primo tempo ha contribuito a far ripartire il Napoli e nel secondo tempo ha segnato sulla risu una ribattuta del tiro di Insigne, che si è inserito molto bene e ha segnato una volta che il portiere ha ribattuto il pallone. Grande Zilic. Io quando ho visto la formazione del Napoli, soprattutto in difesa in cui giocavano Isai e Mario Ruiz, ero un po' preoccupato perché, come sapete, Isai e Mario Ruiz, soprattutto Isai, hanno fatto sempre distrazione nelle partite precedenti. Invece stasera si sono comportati molto, molto bene. Cioè Ronaldo, Higuain, tanto a tutti loro nel primo tempo non riuscirono a passare una volta, non li hanno fatti passare. Cioè questo per me è stato un vero e proprio miracolo. Un vero e proprio miracolo. Ripeto. Poi mi è piaciuta anche la prestazione, non mi dico la prestazione, della squadra. Perché ho visto una squadra che finalmente gioca per la Vaglia e lotta il sangue e se la gioca con la squadra fino all'ultimo minuto della partita. E così è stato. E ha giocato anche, secondo me, anche meglio della Lazio. Perché con la Lazio abbiamo sofferto molto troppo rispetto a stasera. E io sto vedendo adesso in Napoli, pian piano, in partita in partita, la Lazio in poi, che gioca sempre più bene. E spero che continui così. Spero che continui così. Soprattutto con i nuovi acquisti di Diego Temme. Anche da quando è entrato Lobotka ed Elmas hanno fatto una sufficiente partita. Perché Elmas ha contribuito a ripartire sull'azione del secondo duco del Napoli. Lobotka si è rivelato anche un buon giocatore. In cui faceva anche buoni passaggi, soprattutto dietro. Diciamo che non ha brillato. Perché entrando nel secondo tempo ancora si deve adeguare alle tattiche giuste di Gattuso. Nonostante tutto, spero che Napoli continui così e a giocare allo stesso modo come ha giocato stasera e anche contro la Lazio, in parte. Per sperare almeno di vincere la Coppa Italia e a classificarci nelle prime 6-7 posizioni di Serie A per qualificarci, almeno in Europa League, l'anno prossimo. Grande vittoria per il Napoli. Sono troppo contento e godo come un riccio questa vittoria. Ragazzi, noi nonostante tutto ci vediamo in un prossimo video. E sempre e solo forza Napoli. E alla prossima. Godo ancora. Ciao ragazzi. Grazie. Grazie.